Ciao a tutti, come sventare la manipolazione? In questo video voglio spiegarti quali sono, qual è un modo molto importante, molto rapido per sventare un tentativo di manipolazione. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. E adesso veniamo al tema, come sventare la manipolazione. Allora ci sono alcuni atteggiamenti che permettono di contrastare, diciamo, i tentativi di manipolazione. È importante agire né in modo passivo, né in modo aggressivo, ma in modo assertivo davanti a un tentativo di manipolazione. E quando, diciamo, incontriamo una persona che in qualche modo vuole manipolarci o cercando di indurci dei sensi di colpa o cercando di indurci, diciamo, delle modalità, attraverso delle modalità comportamentali, in un'azione che noi non vorremmo fare, è ovvio che stiamo entrando in un tentativo di manipolazione. Quindi, anche se abbiamo, magari ci hanno indotto a rispondere positivamente a una prima richiesta, ma questo vale in tutti gli ambiti, anche ad esempio nell'ambito della seduzione, è accettato magari, che ne so, un invita a cena o qualcosa. Insomma, anche se hai risposto positivamente a una prima richiesta, che talvolta viene utilizzata proprio come una tecnica del piede di porco, no? Ti faccio fare qualcosa, poi per coerenza tenderai a fare altro. Devi prendere atto che non è che devi accettare la seconda richiesta. Se hai accettato l'invito a cena, non è che devi accettare l'invito a dargliela, per dire. Se hai fatto un piccolo favore e ieri hai prestato una cosa, non è che oggi devi prestare una cosa maggiore. Oppure se la persona ti ha prestato una cosa, non è che oggi poi tu devi restituire qualche cosa di maggiore. Chi cerca di farti venire il senso di colpa, tu devi assolutamente fregarti nel senso di colpa. È importante riconsiderare le nostre azioni da un punto di vista logico. Quindi questo è un qualcosa di fondamentale. Secondo punto, dobbiamo avere la libertà di scegliere. Dobbiamo tenere presente che noi siamo persone libere, che hanno la libertà di fare quello che gli pare. Non devono assolutamente, diciamo, sottostare a voleri altrui. Né per giudizio. Ognuno ti può giudicare come vuole. Intanto pensa che chi ti giudica, giudica soltanto se stesso. Quindi non sottovalutare assolutamente chi ti vuole privare della libertà. E fai le tue scelte liberamente. Questa è una cosa molto importante, fondamentale. Chi ti fa un piccolo favore non devi essere costretto poi a fargli un favore ingente dopo. Tra l'altro chi ti fa un favore non richiesto, se ti dice un minuto ho fatto quel favore lì, e chi te l'ha chiesto? L'hai fatto tu perché hai deciso di farlo. Perché questi sono tentativi di manipolazione. Inoltre, devi fregartene se qualcuno vorrà sottoporti a giudizio. E ma poi questo pensare a quello, e ma poi qual'altro pensare a quell'altro. Devi assolutamente essere libero e fottertene, libera e fottertene altamente di quello che gli altri possono pensare. Presta attenzione a quelli che sono eccessivi nel, tra virgolette, nell'adulazione. A quelli che sono eccessivi nel, che sembra che ti hanno eletto a vitello d'oro. Sono manipolatori, manipolative. Sono al 99% appartengono alla categoria dei covert, di quelli che ti manipolano in modo nascosto. E sono i più pericolosi, perché sono quelli che sono più difficili da riconoscere. È ovvio che quando una persona cerca di farti fare qualcosa o ti chiede un favore, tu dirgli, guarda, mi spiace, in questo momento non riesco. Devi semplicemente fare esattamente quello che credi. E non credere neanche all'autorità. Chi dice, no, ma c'è quello che ha detto quello, il medico ha detto quello. Il medico è un coglione come un altro coglione. O tutte le persone sono, diciamo, tu devi ragionare con la tua testa. Poi puoi chiedere consigli a chiunque, ma devi ragionare esclusivamente con la tua testa. E questo è fondamentale. Non c'è nessuna autorità che possa, cioè non c'è una divinità che sa tutto. Tu ragiona sempre con la tua testa, chiedi a più persone, tra l'altro, perché mai fidarsi di una persona sola. Chiedi sempre a più persone, magari che possono essere esperte nel settore, in modo tale da poter fare comunque una valutazione, perché devi sempre fare una valutazione. In più, prenditi sempre il tempo, ricordati che in amore, nella vita, in generale, la fretta è cattiva consigliera. Se tu resti bloccata o bloccato dalla fretta, sei già mezza fregata. Resti bloccata, sei già mezza fregata, perché la fretta è veramente una cattiva consigliera. Quindi lascia perdere, guarda oltre e vedrai che in questo modo non ti manipolano. Cerca di identificare anche il tipo di manipolazione in cui sei vittima, perché è importante. C'è chi ti manipola sfruttando le tue debolezze, c'è chi vuole manipolarti sfruttando la tua ignoranza di qualcosa, c'è chi vuole manipolarti per prenderti, diciamo, dei beni materiali, c'è chi vuole manipolarti su un piano emozionale. E poi ci sono i manipolatori che invece vogliono distruggerti. Questi sono i narcisisti di natura covert, i narcisisti di natura maligna, che hanno proprio la voglia, il sadismo, e te ne rendi conto, ho fatto dei video anche dove spiego come vederli, che hanno proprio questa natura di voler distruggere, voler, diciamo, far del male fondamentalmente. Quindi devi prendere coscienza della manipolazione e veramente per prima cosa devi accertarti della manipolazione. E sia che sia una manipolazione diretta, sia che sia indiretta, sia che chi l'applica sia bravo, sia che non sia bravo, una volta che tu hai preso l'atto della manipolazione, devi semplicemente fregartene, hai osservato i fatti, hai visto che ti stai manipolando, manda a cagare, non importa chi sia. Oppure se non puoi dire di no, di di sì, ma fai no. Cioè, questa è un'altra cosa importante. Diventa manipolativo, inizia a raccontare più bugie che puoi. A chi ti manipola, devi trattarlo con la stessa moneta. Quindi inizia a raccontare più bugie, depista, fai tutto e scappa evitando di avere ulteriori contatti. Cerca nel più breve tempo possibile di chiudere rapidamente con queste persone o questa persona. Bene, per questo video è tutto. Se ti piace metti un like, iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, o seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. Ciao a tutti.